Auto in fiamme questa mattina, lunedì 26 marzo, tra Rocca Canavese e Barbania. L'allarme è scattato intorno alle 10 in via dei boschi di Barbania. A chiamare 112 il conducente di una Volkswagen Golf, un quarantenne, che ha appena visto il fumo uscire, ha accostato la vettura ed è sceso, chiamando subito i soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Nole, che hanno domato e spento le fiamme.